Le sedute del Consiglio regionale Esame dei documenti finanziari Seduta straordinaria sul trasporto pubblico locale Sette giorni in consiglio La seduta del primo agosto è stata aperta dalla votazione unanime di un ordine del giorno sui danni che il maltempo ha causato nel sud del Piemonte, in particolare nell'Astigiano e nella Valle Bormida. Il Consiglio regionale ha poi iniziato l'esame dell'assestamento di bilancio e del collegato alla manovra finanziaria. Il 31 luglio, dopo la commemorazione delle vittime del grave incidente stradale avvenuto sull'autostrada Napoli-Canosa, il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità due ordini del giorno in tema di malattie rare e disabilità e la deliberazione che apporta alcune modifiche tecniche al recente regolamento regionale in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali. In materia finanziaria ha approvato all'unanimità il rendiconto della gestione 2012 dell'Assemblea legislativa e a maggioranza il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2012 e in chiusura di seduta all'unanimità l'assestamento al bilancio dell'Assemblea legislativa, documento che applica i 10 milioni di avanzo accertati nel rendiconto del Consiglio regionale. Nelle ultime sedute prima della pausa estiva il Consiglio regionale ha esaminato e approvato il pacchetto dei provvedimenti finanziari, rendiconto e assestamento della Regione e dell'Assemblea legislativa e le disposizioni collegate alla manovra finanziaria. In particolare su politiche sociali e cultura sono stati trovati i fondi per mantenere gli stanziamenti ai valori del 2012 già ridotti dagli anni precedenti. Una legge di assestamento al bilancio che abbiamo voluto migliorare perché all'inizio creava ingiustizia non dando risorse sulle politiche sociali o non faceva crescere al Piemonte togliendo le risorse alla cultura. Queste sono state le due posizioni forti che il PD ha espresso su questa legge e i risultati che il PD ha ottenuto. Per il resto è una legge di assestamento al bilancio che conferma una Regione in grave difficoltà economica e finanziaria e rispetto ai quali la preoccupazione è almeno pari all'incapacità del Governo regionale di affrontare una serie riforma dell'organo, dell'ente regione. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale sono riusciti a mettere sotto controllo i conti della Regione Piemonte che nella passata legislatura avevano avuto una dilatazione fortissima come debiti. È stata una manovra impegnativa. Adesso abbiamo un quadro certo della situazione e soprattutto si è riusciti ad evitare il commissariamento della sanità. Sono arrivate tra l'altro risorse aggiuntive per cui riusciremo nei prossimi mesi a pagare i fornitori delle ASL e quindi pur con grande fatica stiamo cercando di ritornare in una situazione di normalità. Il Consiglio regionale si è riunito in seduta straordinaria su richiesta del Partito Democratico il 23 luglio per analizzare la situazione del trasporto pubblico locale. Dal dibattito sono emerse diverse criticità, soprattutto legate all'aumento dei prezzi dei biglietti, per contribuire al piano di rientro. Oggi in Consiglio regionale l'assessore Bonino ci ha comunicato che aumenteranno del 15% le tariffe del trasporto pubblico locale perché il servizio è molto migliorato. Ecco, io credo che questa frase non abbia bisogno di commenti. Il servizio va a pezzi, la regione dice che aumenta il prezzo del biglietto perché il servizio migliora. Fuori dal mondo, fuori dalla realtà, noi combatteremo questo modo di procedere della giunta regionale. Abbiamo messo in evidenza i fatti da parte dell'assessore ai trasporti Barbara Bonino, da parte della sua maggioranza che la sostiene. I fatti rispetto alla precedente giunta di sinistra, Bresso, e ai guai che ha combinato la Bresso con la sanità e con i trasporti. Devo dire che nonostante le difficoltà finanziarie siamo riusciti a mantenere un livello di servizi ottimo rispetto alle grandi difficoltà che stiamo incontrando in questo periodo. La disattivazione del punto nascito dell'ospedale San Lorenzo di Carmagnola è tornato al centro dell'attenzione del Consiglio regionale il 23 luglio con la votazione che ha respinto gli ordini del giorno dei primi firmatari Nino Boetti, Partito Democratico, Andrea Bucchicchio, Italia dei Valori, e Davide Bono, Movimento 5 Stelle. Ha provato invece a maggioranza quello di Augusta Montaruli, Fratelli d'Italia, che impegna la giunta a riesaminare la situazione in cui verte il punto nascita. Nella stessa giornata è stata ricevuta a Palazzo Lascaris una delegazione di cittadini di Carmagnola per ribadire la necessità di mantenere attiva la struttura. Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso a maggioranza parere sfavorevole sui disegni di legge finanziaria per il 2013 e sull'assestamento al bilancio 2013 nella riunione tenutasi a Palazzo Lascaris il 22 luglio. Nel corso della seduta i rappresentanti degli enti locali hanno espresso la loro preoccupazione agli assessori presenti in aula sulla mancanza di risorse e i troppi tagli al settore sociosanitario e ai trasporti. Grazie a tutti! Grazie a tutti!